E questo è il mio testo per approfondire un piccolo problema personale di filosofia Come il tronco e il giovamento da non piacere agli altri come il fondo che si aspetta che si Per esempio non è vero e poi vivo spesso sono solo argomento Per esempio non è vero e poi vivo spesso sono solo argomento Per esempio non è vero e poi vivo spesso sono solo argomento Per esempio non è vero e poi vivo spesso sono solo argomento Per esempio non è vero e poi vivo spesso sono solo argomento Grazie